Il mercato di Carolzio Corte cambia volto. La rivoluzione scatterà a martedì 10 settembre. Punti fermi restano la collocazione, il lungo adda del lavello, così come non cambia il numero complessivo degli stand, 132. Ma non mancano le novità. Verranno spostate sul lungo fiume, nell'area pedonale ricavata dopo l'apertura della tangenzialina, 34 postazioni, fino ad oggi posizionate nel parcheggio Marinai d'Italia. In questo piazzale resteranno 17 bancarelle, invece delle 51 precedenti, liberando due terzi dell'ampio parcheggio, dove potranno sostare più auto e moto, senza dimenticare il posteggio dietro al monastero. Saranno inoltre potenziati i servizi per gli ambulanti, con nuovi allacciamenti prese per la corrente elettrica, in particolare a servizio degli stand alimentari. Il nuovo mercato sarà dunque operativo già dalla prossima settimana, come ufficializzato e illustrato dall'amministrazione, insieme all'associazione di categoria Cesare Rossi per Amba Confesercenti e Rino Barbieri per FIVA Conf Commercio Lecco. Per arrivare a questo riassetto il cammino è stato lungo e caratterizzato da un approfondito confronto con gli ambulanti e le loro associazioni di categoria, ha spiegato l'assessore al commercio Luca Caremi. Il confronto è durato due anni, quasi tutte le perplessità sono state superate. Non sono mancati i dibattiti accesi, ma il dialogo è sempre stato costruttivo, quello di Calolzi è un mercato che funziona bene e andare a toccare una macchina già ben rodata non è semplice, soprattutto in un momento di crisi. Ora il mercato sarà più facilmente fruibile per la location, la presenza di molti posteggi e la qualità delle merci in vendita. Si tratta di uno dei migliori in assoluto sul territorio, hanno sottolineato Rossi e Barbieri.